Ciao a tutti, sono Alberto Vodani, frequento il primo anno del corso di Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e come credito libero ho scelto il corso di Rivoluzione Digitale tenuto dal professor De Marti. Il mio gruppo, che si chiama Augmenti del Reality Polito, ha come obiettivo quello di descrivere i concetti della realtà aumentata e descrivere sia i concetti, sia dal punto di vista tecnico ovviamente, ma anche dal punto di vista economico e sociale di quello che può portare, di quello che ha portato in prima specie, poi quello che sta portando, in realtà aumentata sempre a far più parte della nostra realtà. Io mi occuperò della parte tecnica, probabilmente, e ci vediamo nei blog. Arrivederci a tutti.